Grazie. Innanzitutto con questo ordine del giorno si chiede al Governo un impegno formale per quanto riguarda la stipula di un accordo di programma. Un accordo di programma che preveda innanzitutto la chiusura delle fonti inquinanti, la destinazione delle ingenti risorse pubbliche alla realizzazione di impianti ecosostenibili, unitamente a una serie di tutele a favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto nonché l'introduzione di tutele ambientali e sanitarie come ad esempio l'introduzione della Bias e la revisione dei limiti degli inquinanti di cui al decreto legislativo 155 del 2010. Grazie Presidente.